ciclotime.com solesino dal 1985 l'officina di biciclette un'officina famosa storica in questo paese di solesino per chi non lo conosce alle porte tra monselice colli ugani rovigo arrivando da padova arrivando e venendo verso rovigo a solesino è il paese che trovate da monselice dove sono i colli ugani passate il semaforo centrale venite avanti come queste macchine per 200 metri vi lasciate a destra il distributore ip arrivate alla metro quadro pavimenti rivestimenti e in alla metro quadro e alla favola materassi da letto la fabbrica azzurra in mezzo c'è la ciclotime biciclette assistenza elettrica ricambi batterie riparazioni per bici elettriche che nessuno ormai riesce a fare delle cose serie sulle riparazioni in garanzia certificati punto riparazioni bici elettriche assistenza professionale qualificata ricambi e batterie per tutte le bici la cosa bella che siamo in primavera siamo in aprile abbiamo la possibilità di farvi vedere i nuovi modelli e bike di bici elettrica qui abbiamo la modena pro abbiamo la garelli abbiamo l'armony abbiamo le 29 nsr abbiamo le bici da corsa merida abbiamo l'abbigliamento introvabile abbiamo i ricambi abbiamo le vie ammortizzate da down hill da cross country introvabili ma con prezzi abbordabili a tutti perché siamo costruttori diretti qui la bici viene assemblata in italia non passa non fa il giro del mondo perciò il risparmio c'è perché non ci sono passaggi produzione diretta artigianale ma anche abbiamo capolavori come questa experience creata dal titolare gravel una novità incredibile a basso costo abbiamo le bici da corsa abbiamo l'usato di di qualità qui abbiamo una canon del stupenda in carbonio un'occasione bellissima poco più di mille euro tanto per capirci abbiamo delle bici da 300 400 euro 370 400 pieghevoli da camper abbiamo le bici da corsa a partire sicuramente prezzi introvabili a partire da 700 500 800 900 ma arrivando anche a capolavori che costano di più come questo gioiello americano experience la merida ciclo time dal 1985 prodotti lubrificanti integratori lampade copertoni antifurto lucchetti catene ricambi tutto quello che serve al ciclista tutti sanno vendere ma pochi sanno fare l'assistenza ciclo time può darti semplicemente anche una pompa per gonfiare la bicicletta un cavo da 50 centesimi ecco qui c'è tutto quello che serve alla bicicletta è la cosa fantastica che abbiamo anche l'officina dal 1985 per riparare la bici non solo vendita assistenza l'assistenza è difficile da trovare tutti tutti hanno prodotti da proporre da vendere ma nessuno pochissima gente fa assistenza e questo è bellissimo ciclo time solesino dal 1985 non noi non siamo nati ieri siamo nati nell'85 ecco veniteci a trovare sicuramente non sarete delusi ciclo time solesino in statale la statale principale al semaforo denominato cason casa cason da sempre vi aspettiamo